Siamo ormai alla fase declinante della seconda giornata della Summer School, evento estivo organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli, la cui dirigente Costanza Cavaliere ci traccia un bilancio proprio qui all'interno del Teatro di Juvenum. Oggi è stata una bella giornata con tanti spunti di riflessione. Devo dire che come bilancio iniziale è abbastanza positivo, nel senso che la prima grossa variabile che poteva essere era la fruizione da parte dei nostri studenti, l'apprezzamento di quanto andavamo a fare. Devo dire che queste esperienze appunto fuori porta, come le stiamo definendo, sono state molto apprezzate, ma soprattutto è molto apprezzato il fatto che si possano incontrare persone rappresentative di mondi, di formazione, di lavoro, di professionalità diverse. Il poter interagire anche con gli adulti in maniera, come dire, non quotidiana, non solita, rappresenta un elemento aggiunto, un valore aggiunto di questo percorso formativo che sull'onda dell'economia circolare, che ci sta accompagnando come light motive, si sta calando poi su alcuni aspetti che ci riguardano in senso locale, ma in senso generale come tutti quei contenuti che ritroviamo affrontando le varie discipline di studio. Quindi siamo partiti il primo giorno con l'attenzione alla transizione energetica e alla transizione ecologica per arrivare a quella che oggi sono state trattate, cioè le aree protette. E in modo particolare questa perla che abbiamo nei nostri luoghi del Geoparco della Maiella. Le voci intervenute sono tante di operatori che operano sul campo e che hanno, sia da un punto di vista industriale, come è stato illustrato nella prima giornata, come quelli che invece operano nel campo degli studi, come ricercatori dell'Università di Chieti, eccetera, ci dimostrano che il sapere, il prevedere determinate iniziative di valorizzazione sono possibili soprattutto quando si è insieme a poterli proseguire, sia in senso di progettazione iniziale, sia in senso di implementazione per quanto riguarda le forze amministrative ed economiche che servono, per arrivare ad una riprogettazione che ha bisogno di idee nuove. Speriamo che queste idee nuove possano essere i nostri ragazzi a fornirle come tutti gli altri studenti che noi seguiamo, cerchiamo di seguire avendone cura il più possibile. Questi ragazzi che saranno coinvolti anche con altre date della Summer School? Sì, sono ragazzi che stanno completando il loro percorso di orientamento e di trasversalità come aggancio al mondo del lavoro. Continueranno nei prossimi giorni sulle tematiche dell'industria e tecnologia, dell'agricoltura, del turismo, della cultura, dell'arte e dell'artigianato. Quindi andiamo ad affrontare quelle branche che vanno da un primo settore di impegno fino al terzo settore e quanto c'è nel mezzo che è la creatività e la capacità di ideare quel che può rappresentare un'occupazione, ma in realtà è un progetto di vita per se stessi in un contesto dove ci sono anche altri. A fare gli onori di casa per la seconda parte di questa giornata organizzata dall'Istituto Algeri Marino Angelo Piccoli, sindaco di Montenero Domo, anche perché oggi questo seminario si è svolto all'interno di Juvanum, una località ad alto valore archeologico, tra le meraviglie della provincia di Chiete e del Sangro Aventino che però, come diceva il sindaco stesso, ha bisogno di cura, di manutenzione e di personale. Sì, come dicevo nell'intervento è una vasta zona di circa 30 ettari di terra, 30 ettari che comprende tutta la viana del parco archeologico e naturalmente per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria è tutta a carico del comune e capite bene che per poter gestire e per rendere fruibile l'area c'è bisogno di manovalanza e di lavoro. Noi negli anni scorsi abbiamo avuto sempre la possibilità e l'appoggio delle associazioni locali ma questa pandemia purtroppo ha ridotto anche le attività di queste associazioni e quest'anno in modo particolare abbiamo dovuto fare tutto un po' con i nostri dipendenti comunali e con le borse di lavoro che abbiamo in carico da maggio a settembre del 2021. Oggi tra l'altro c'è stata anche una visita guidata nel vostro museo ricco di reperti archeologici. Sì, il museo archeologico è stato aperto nel 2006 tutti i reperti sono frutto degli scavi che si sono succeduti negli anni i primi scavi sono stati realizzati dalla fine della seconda guerra mondiale e poi si sono succeduti nel corso degli anni e in modo particolare negli ultimi anni sono i ragazzi che sono investiti ad annunzio dei beni culturali che tutti gli anni nel mese di luglio sono qui con noi accompagnati dalle docenti Staffilani e Menozzi che curano tutto quello che riguarda l'aspetto degli scavi e dei reperti che si ritrovano annualmente. Sono previsti degli eventi, Sindaco, a breve qui, Covid permettendo? Sì, Covid permettendo abbiamo programmato, noi la chiamiamo l'estate montenerese la maggior parte degli eventi sono incentrati qui a Juvanum in modo particolare vogliamo ripetere l'ottava edizione di Sapere e Sapori Antichi a Juvanum che si svolge generalmente di sera, facciamo rivivere le taberne con gli antichi mestieri e poi i nostri punti aziendali e i nostri allevatori ripropongono i menu e le tipicità del montenerese, diciamo. Come dicevo, il problema principale un pochettino è la gestione di tutta l'area del parco e dei musei e proprio in occasione di questo evento, Sapere e Sapori Antichi a Juvanum, a ottava edizione vogliamo mettere in evidenza un po' quelle che sono le problematiche legate alla gestione. L'obiettivo è quello di firmare una nuova convenzione dove il capofila diventa il parco nazionale della Maiella la sovrintendenza curerà sempre la parte scientifica, il comune si interesserà sempre al pagamento delle utenze e alla gestione ordinaria e straordinaria e la regione stiamo cercando di contattare l'assessore Damario al riguardo, abbiamo già contattato per cercare di reperire dei fondi che possano garantire a breve e medio termine una programmazione adeguata di questo bellissimo parco archeologico. La dottoressa delle Garzarella, tra le relatrici di questa seconda parte della giornata dedicata al Summer School dell'Istituto Algeri Marino di Casoli, oggi una scenografia davvero suggestiva perché il seminario si è svolto in un ambiente antico possiamo dire al teatro o all'anfiteatro che dir si voglia all'interno di Juvanum. Lei dottoressa ha parlato di Geoparco, ci può far capire anche a noi più nel dettaglio di che cosa ha parlato nella relazione? Io sono un geologo dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo che nel 2017 ha stipulato una convenzione con il parco Maiella per lavorare al dossier di presentazione per l'UNESCO, quindi abbiamo lavorato congiuntamente i tecnici dell'Ordine con i tecnici del parco per scrivere questo dossier da presentare all'UNESCO. Questo perché? Perché la Maiella di fatto è un unicum geologico, ha un'importanza geologica ma che ben si sposa col territorio e con la popolazione. Ci sono 39 comuni, 39 municipalità come si chiamano in gergo nel territorio del parco che è una cosa abbastanza rara come evento. Questo ci dice una cosa fondamentale che l'uomo ha avuto sempre un rapporto speciale con questa montagna. Da epoche millenarie conosciamo dalla Valle Giumentina quindi da 600 mila anni fa e più fino a oggi la Maiella non è stata mai disabitata ma è sempre stata un luogo accogliente, un luogo anche sacro, non ci sono tanti modi di chiamarla Maiella madre, Maiella sacra perché ha avuto sempre un ruolo importante e di questo abbiamo parlato oggi di come l'uomo può vivere un ambiente naturale senza di fatto determinarne il consumo, la distruzione ma appunto entrare in un connubio virtuoso di vita reciproca. In queste località si può vivere di turismo visto che abbiamo delle esperienze in paesi ad esempio del nord Europa che vivono di turismo con pochi sassi di nessun valore qui invece basta girarsi di pochi gradi e si trova di tutto. Si, si trova di tutto e su questo dobbiamo lavorare perché appunto dal patrimonio archeologico, storico, naturalistico, ambientale La Maiella è in poco spazio perché non siamo uno di quei grandi parchi naturali di come ci vengono magari proponiate le immagini dall'estero, americani e così via ma siamo una piccola realtà eppure dentro questi 74 mila ettari più o meno c'è davvero di tutto pensiamo al patrimonio dei nostri borghi, 39 comuni che di quasi tutti sono dentro l'area del parco e sono dei piccoli borghi che racchiudono un patrimonio storico-artistico infinito per citarne uno pesco costanzo, mi viene in mente uno dei gioielli più caratteristici di questi luoghi Dobbiamo lavorare bene ma anche facendo sempre attenzione poi al moderno cioè dobbiamo essere anche capaci di parlare un turismo moderno e sostenibile quindi parlare di un turismo che sappia appunto attrarre, che sappia conservare il territorio ma promuovere nella giusta maniera, ci sono tanti esempi virtuosi, tanti progetti in essere dal ripristino dei sentieri nuovi, apertura di nuovi sentieri come l'ultimo a letto Manopello il sentiero dei minatori per esempio, quello sentiero sulla linea Gustav sul settore orientale che parla di cose nuove che si conoscevano già ma che appunto fanno parte sempre di una conoscenza sempre nuova e una ricerca sempre attenta del territorio, anche su temi su cui magari non se l'ha puntato fino ad ora La dottoressa Silvia Raspagliesi, archeologa laureata all'Università di Chieti oggi ha fatto anche da guida qui a Juvanum, praticamente si è trovata in un posto per lei entusiasmante perché qui c'è da raccontare tanto Esatto, qui c'è da raccontare tanto, infatti l'Università di Chieti ha ripreso i scavi all'interno del sito di Juvanum nel 2017 io quindi sono cresciuta all'interno del sito di Juvanum e i risultati effettivamente che stiamo avendo sono molto interessanti abbiamo scavato diversi ambienti nel 2017 e nel 2018 una sorta di mensa ponderaria se così vogliamo dire nel 2019 abbiamo avuto la possibilità di aprire anche altri ambienti come una strada basolata vicino alla fonte o anche l'ambiente che stiamo scavando appunto tutt'oggi e un piccolo saggetto di scavo anche sull'acropoli vicino al Tempio B con un progetto diciamo così alle spalle anche che riguardava una sorta di anastilosi del muro crollato appunto del Tempio stesso quindi è una miniera quasi inesauribile esatto, a Juvanum c'è molto ancora da scavare, tutti i vani abitativi quindi speriamo che il progetto dell'Università di Chieti continui e continui ad attirare soprattutto studenti volenterosi di voler studiare e scavare qui a Juvanum